E raga benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite In carichi leggendari in questo caso Trova la cassaforte segreta foresta Frignante sono uscite esattamente da pochissimi minuti O meglio neanche un'oretta E semplicemente raga vi faccio vedere tutte le location Di queste appunto casseforti Perché non ce n'è solo una ma ce ne sono più di una Ovviamente ne servirà solo una Ma ora vi farò vedere tutte e quante le varie cassaforti Quindi ne troviamo come potete vedere esattamente una in questa location Eccola qua dovremmo semplicemente interagire Completeremo la missione di modo tranquillissimo Sono 45.000 XP per ogni incarico leggendario Quindi tanta tanta roba Come potete vedere appunto ce n'è una qua E mi trovo esattamente in questa posizione esatta dove c'è il ponte Che non è proprio a foresta frignante Però la conta comunque C'è un'altra ragazzi esattamente lì Come potete vedere qua Esattamente su questo tronchicello qua Eccolo qua bella gagliarda E qui c'è un'altra appunto Mi trovo leggermente più distante Andiamo ancora più avanti Perché ce ne sono altre due Mi sembra altre tre o due o tre In ogni caso ce ne sono altre Facciamo una bella scalotta Qui in questo caso già ci intrufoliamo In foresta frignante Già cerchiamo di entrare dentro la città E semplicemente si troverà esattamente qui vicino Un'altra raga si trova esattamente qui Come potete vedere Eravamo praticamente lì dove vi avevo pingato Abbiamo fatto la scala E qui ce n'è un'altra come potete vedere Ci troviamo esattamente in questa posizione Quindi leggermente più distante Mentre raga Oltre al ponte Non so se ora riesco ad arrivare in safe Senza morire La vedo veramente tosta E invece ce l'ho fatta raga Con due di vita Siamo in safe In ogni caso Ecco qui un'altra location Dedicata a questa Cassaforte Bislaca Quindi in una di queste location Voi potete andare Per appunto completare questa missione In questo caso raga Andando invece Leggermente Anzi un bel po' più distante Ci eravamo trovati appunto qua E qua si trovava appunto La Per virgolette Quarta cassaforte Dove voi potete andare Per appunto Completare questa missione Ovviamente vi ricordo Che ne servirà solo Ed esclusivamente Una Per completare questa missione Ma io vi sto facendo vedere Tutte le location Semplicemente raga Si troverà esattamente Percorrendo Il fiume Quindi continuiamo ad andare Tramite il fiume E qui sulla destra Troveremo l'ultima cassaforte Quindi in totale Mi sembra che ne abbia viste Fossero cinque In totale sono cinque Ed eccola qua Esattamente Al centro Se non più o meno In generale Dentro foresta Fregnante Quindi la prendiamo E come potete vedere qua Tac L'OE è un Compromesso L'OE è un compromesso Tu troverai E bravo In ogni caso Adesso vi farò vedere Gli altri incarichi Come potete vedere Però dentro Troviamo un foglio Con scritto Top secret Quindi abbiamo visto Tutte e cinque Le location Un bacione Grazie a tutti Ragazzi a codici Creature Lucius Mi raccomando Nelle negozio Gioteri Forte Ci vediamo tra pochissimo Con nuovissimi video in guida Bella raga Un bacione Grazie a tutti